C'è anche il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, vittima di un recente e terribile fatto di cronaca tra i premiati della ventitresima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini, presentato nella sede di Roma del CONI. La cerimonia di consegna è il 4 luglio a Castiglio Fiorentino. Oltre a Manuel Bortuzzo, il nuotatore di vent'anni rimasto paralizzato dopo un agguato a Roma, spiccano i nomi degli altri premiati, tra cui Andrea Gianni, Antonello Riva, Zicu, il presidente della Lega DB, Mago Balata, la campionessa Degard Tutu, la prima donna africana di Cologa, vince con una medaglia olimpica. È giusto che il CONI lo patrocini perché si tratta di sport, si tratta di valori, si tratta poi di riconoscere attestati, riconoscimenti a tanti atleti che hanno fatto grande la storia dello sport, non solo italiano ma mondiale, quindi nel solco di quello che è la nostra casa madre, i cinque cerchi olimpici, il CIO, quindi direi che è più che un atto dovuto e sacrosanto. Grandi personaggi a livello internazionale, tra i quali abbiamo Zico, Caca Calazze, che è attualmente il sindaco di Tbilisi, Franco Causio, Antonello Riva, Andrea Gianni, poi abbiamo Chiara Fontanese, la pluricampionessa mondiale di motocross, e abbiamo anche Emanuele Bortuzzo, che è il ragazzo che purtroppo ha avuto l'incidente a Roma, dove li hanno sparato e immobilizzato. Quindi vi invito tutti ad arrivare a Castigliano Fiorentino per questa serata fantastica, che sarà oltretutto in diretta su Sport Italia il 4 luglio alle 20.30. È il settimo anno consecutivo e Menarini decide di associare il suo nome a un'iniziativa meravigliosa, che è il premio Fair Play Menarini. In un momento in cui c'è tanto bisogno di Fair Play, non solo nello sport, dove i valori del Fair Play sono sicuramente unici e essenziali per raggiungere in maniera corretta dei risultati, ma per una società civile che ha sempre più bisogno di questi valori. Quindi il nostro intento è di fare del premio Fair Play Menarini la vera cassa mediatica di diffusione dei valori del Fair Play. Il premio Fair Play ha scelto Castigliano Fiorentino in tempi non sospetti e questa nostra presenza qui stamani che dà il via alla nuova edizione del prossimo luglio è anche un coronamento di un percorso che ci ha consentito di diventare anche attraverso quel bando della Commissione europea che ci siamo aggiudicati la capitale europea della promozione dei valori del Fair Play dello sport. Ora, sembra una cosa più grande di noi, ma in realtà gli ingredienti che abbiamo messo sul tavolo per poter avere anche questo riconoscimento si basano su dei principi fondanti dello sport e sicuramente il premio Fair Play internazionale Menarini è la cigigina sulla torta. Quindi siamo ben lieti ancora una volta di ospitare questa nuova edizione e crediamo che questa sia anche un'ottima forma di promozione della nostra città.